Abbiamo scelto di festeggiare i compleanni degli ospiti, questo perché sono soli ognuno con i suoi pensieri spesso. Il nostro obiettivo è proprio semplicemente di far passare un'ora e mezza senza che loro pensino a questo. A me piace questo perché c'è un po' di movimento, altrimenti durante tutto l'anno siamo in silenzio. Invece questo è un divertimento che fa bene allo spirito e alla persona. Queste persone ognuno di loro mi arricchisce. Ascoltare le persone che comunque hanno tutta questa esperienza di vita e che riportano anche momenti belli e positivi del loro passato, diciamo così, per me sicuramente è un arricchimento. E ascoltare vita vissuta e avere anche la possibilità per loro di essere ascoltati è tanto. E se si sta attenti, si coglie questo, anche se sembra che non si stia facendo niente, anche se forse non stiamo salvando vite, però stiamo portando un po' di serenità, un po' di sollievo. Per loro è tantissimo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.